Questa mattina una segnalazione alla nostra redazione ci ha portato in pieno centrofano. Piazza Andrea Costa, una delle zone più caratteristiche della nostra città, nella quale è presente il mercato ittico e le bancarelle degli ambulanti. Proprio loro hanno deciso di incontrarci per parlarci dei problemi che da tempo la piazzetta e i vicini bagni pubblici stanno avendo. La buca prima era 5 cm e adesso vedete come è ridotta. I bagni sono inagibili ma sono mesi. Gli stessi vigili ci hanno detto che dobbiamo telefonare noi in comune, il comune rimbalza la palla da comune e camera di commercio e nessuno qui si muove, quello è il discorso. E' in più pericoloso perché questa gente che ha avuto queste cose popolari qui al plazzo Boccacci può cadere perché sono tutti anziani. Poi hai visto la signora? E' parecchi mesi che alla sera non è tanto illuminato. C'è anche la paura noi anziani di caderci dentro. Una buca in corrispondenza di un tombino che col tempo sta diventando una fogna a cielo aperto e i bagni pubblici guasti ormai da mesi dove non potendo usufruire dei water i bisogni vengono fatti direttamente nel pavimento. A dare un'occhiata nell'ordine delle cose perché le fogne producono quel che si vede in giro. I bagni è un disastro, cioè un pochino di... ecco, le buche. Cioè bisogna... da quelle buche escono gli animali, i ratti, non si può, non si può. Quindi lei ha chiamato, in comune gli hanno detto che picche, chiamate, fanno un tv, chiamate qualcuno, smuovete qualcosa in modo che si muove qualcuno. Chiuso lì, bisogna che facciamo qualcosa. Come si chiama? L'ufficio del retno e del registro.